Questa è una partita particolarmente piena di curiosità, perché non è la partita dopo la sosta, abbiamo ripreso un po', hanno ripreso anche loro, quindi diciamo che le squadre hanno avuto tempo necessario per mettere a posto nella pausa qualche schema, qualche gioco, qualche soluzione, qualche discorso fisico e viene una partita vera contro una squadra forte. Giochiamo contro la capolista, contro la prima classifica, quindi c'è quella che ha quasi vinto lo squadro l'anno scorso, quindi c'è grandissimo stimolo da parte nostra, da parte dei giocatori per fare una gara con quelli di un livello alto. Noi stiamo abbastanza bene, ci siamo allenati con grande volontà, con grande energia, non abbiamo avuto tutta la settimana a disposizione giocando e giocando il sabato, ma tantomeno ce l'avranno loro, anzi ancora meno perché hanno giocato anche in Coppa e quindi abbiamo preparato quello che si poteva preparare in tre giorni di allenamenti, sapendo che ci sono due o tre tatticismi importanti per il loro attacco, quindi per la nostra difesa, il grande lavoro sui pick and roll in cui loro prendono vantaggio senza realmente bloccare la palla e dopo hanno un'ottima spaziatura una volta che riescono a prendere un vantaggio dal palleggio e fermare il loro contropiede con i loro tir nei primi otto secondi, soprattutto in transizione con le guardie e con la grande corsa che ha Polonara e coi lunghi, il quesito Lavrinovic che è sempre un giocatore che può fare molte volte quasi più punti che minuti quando viene utilizzato e loro sono veramente una squadra forte con grande talento negli esterni tra Radori della Valle e Sealings con due playmaker che sono, non dico uno a posto dell'altro, però insomma abbastanza diversi che danno ritmi diversi alla squadra e una batteria di lunghi veramente invidiabile soprattutto se si viene a pensare che c'è stata la giunta di Golubovic che porta ancora più fisicità, ancora più centimetri, ancora più forza. In tutto questo che secondo me viene detto poco è una squadra ben allenata, è una squadra che Max Menetti fa giocare bene, hanno ottime spaziature, hanno una soluzione tecnica offensiva per ogni tipo di difesa, sono preparati su tante cose. È chiaro che l'aggressività, i centimetri e la grande rotazione che loro hanno è quello che poi gli dà veramente tanta forza. Quindi partita così, di un livello quasi superiore alla media sotto un punto di vista tecnico-tattico e infatti giochiamo contro la capolista. Mettendo due playmaker, intanto abbiamo messo due playmaker di valore, ma poi soprattutto tutti gli altri giocano nella loro posizione ideale. La rotazione non è più corta ma è più allungata, e quindi siamo una squadra con equilibri diversi, quindi con maggiori propri equilibri sul campo nel rispetto dei ruoli e anche nella possibilità di giocatori non giocare 30-35 minuti ma giocarne l'altro. Io l'altra volta quando eravamo qua in sala stampa avevo fatto un po' l'osservazione che la forza che passa per questa squadra, diciamo, la forza che può aumentare proprio, può farci migliorare proprio l'accettazione dei giocatori di dare molto di più in minor tempo. E adesso siamo 10 giocatori, tanto è vero che in molte occasioni ho fatica io proprio nell'utilizzare anche Severini perché giocare con 10, con sesto esterno, fa proprio fatica nella divisione dei minuti, nel far entrare in gara tutti i giocatori. Quindi intanto abbiamo messo due playmaker, abbiamo messo i giocatori a posto e poi soprattutto la fase successiva che con questi giocatori adesso ci stiamo allenando con molta continuità perché oltre due playmaker è da un po' di tempo che comunque si sta allenando e sta giocando anche Giovanni Pini, quindi è un ulteriore giocatore in più. Credo che sia questa la cosa più importante di tutto. Facendo questo è chiaro che sia magari il non dare tutto e subito ma all'interno dei 40 minuti nella rotazione e nel minutaggio che avanza hai sempre più forza, soprattutto difensiva e non hai più quegli sbalzi dovuti magari proprio all'affaticamento o anche alla lunghezza della gara, quindi in qualche momento di pausa giocando con giocatori fuori ruolo. Sì, adesso sappiamo che andiamo incontro a un periodo di calendario durissimo perché è un periodo di calendario dove ci porterà a giocare delle gare veramente difficili, però credo che il segreto come sempre sia quello di guardarne uno alla volta. Adesso noi abbiamo Reggio Emilia, abbiamo questa squadra che è la prima della classe e quindi è la più forte di tutti e il fatto di mettere delle vittorie consecutive poteva dare una scintilla maggiore a quello che è la voglia di farsi voler bene della squadra ecco e al di là di anche darci delle sicurezze a noi perché lavori, 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 poi non vinci e hai difficoltà. Quindi io spero che la squadra si faccia amare sempre di più con dedizione, con volontà, con grande voglia di lavoro. Potrà influire la partita per quella di Coppa Italia? Credo di sì. Ecco, poi su che cosa non lo so perché poi preferisco non pensarci. Io credo che per noi, soprattutto dopo la vittoria di Pesaro, credo che giocare adesso contro i primi della classe, contro chi sta facendo benissimo, sono due punti di un'importanza vitale. Quindi poi diciamo che finita questa partita potremmo pensare a come potrà influire sulla Coppa Italia. perdiamo di 30 o vinciamo di 30, tutto cambia anche per un approccio. Poi è vero che la Coppa Italia sei in un posto così, giochi in un unico campo, una partita dentro o fuori, si tira sulla palla, boh ecco la Coppa Italia ha sempre un suo fascino particolare di emotività, di emozioni. Ogni tanto vengono fuori partite orripilanti, ogni tanto vengono fuori partite di una bellezza incredibile. Quindi ci penseremo dopo. Adesso noi abbiamo questa partita importante, sappiamo di non partire favoriti domani, perché sappiamo di giocare contro una squadra veramente con un roster grande, però abbiamo anche la consapevolezza di aver vinto due partite che dovevamo vincere in trasferta, di aver vinto in casa la partita che poi ci ha dato la Coppa Italia. Quindi insomma, mentalmente credo che sia una partita molto tosta da parte di tutti e due, anche con grande ardore da parte di tutte e due le squadre, per poter portare a casa dei punti che sono importanti. Per noi lo sono di sicuro, però io credo anche per loro, perché poi alla fine, io credo che loro mantenere la prima posizione, il fattore campo, ipotizzando una finale contro le squadre più forti come Milano, Sassari o chi sono, il fattore campo, loro a Reggio Emilia, diciamo che l'anno scorso non hanno mai perso. Quindi per loro è un obiettivo molto importante.